Grazie a tutti A studiare le comunicazioni Va bene? Abbiamo tre comunicazioni tra le cose italiane La prima ha la desinenza in che finisce in are La seconda è la terza dire Ok? Allora, qual è la differenza tra la terza persona del verbo mangiare? È la terza persona del verbo leggere? Allora, ragazzi, ascoltate Qual è la desinenza? La desinenza è molto importante Allora, noi mangiamo Voi mangiate e si mangiano Ragazzi, la dobbiamo finire con questa storia Vi sembra l'orario? Di entrare? Cioè, la lezione è iniziata da mezz'ora Già Oh, ma vuole il problema di te? Forza 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 Andate fuori Fuori, dai Non ti preoccupi, ma giùsè E un minuto pic, sto carnaval E un minuto pic, vai aia, è ci calzzi E un minuto pic, vai aia, è ci calzzi E un minuto pic, vai aia, è ci calzzi Voi, vai aia, è ci calzzi Ma inizia La tiny La torre E anche la pietta около E un minuto picco E o il long pietro E E Il De Yes Buona, non so. Oh, non ti asciugava lì, se la chiamé un conto molto il team di fare. E tutto dove sta fuori? Buona? Ragazzi, che state facendo? State fumando, eh? La solita storia? Ma c'è chi? Ti metto. Ho trovato la mia borsa aperta. Andiamo, andiamo attenzione. Ma che è il che? Ma insomma, ragazzi, mi volete spiegare che cosa avete combinato? Presse, non che stai dicendo? Non abbiamo fatto niente, eh? Non avete fatto niente. Avete frugato nella borsa della pidella. Avete rubato una sigaretta. Ma siete andati in banno? Ma ci state visto? Avete fumato? Che altro volete fare a 13 anni? Ma preside, che faccio per tutti? Cosa, piccino? Preside. Trovate in classe, ma eh? La dita qua. La dita? Niente. Che hai detto? Mancini, vieni qua. Guardate che in classe, sapete che facciamo? Cinque giorni, tutti e tre, a casa. Oh no! Vi fate vedere per cinque giorni. Oh no! Cosa dorme? Cosa dorme? Cosa dorme? Cosa dorme? Cosa dorme? Con laста dorme? Cosa dorme? E qui? Che t'acqua dorme? Non andiamo, non so, non so. Oh, non c'è stato di fiume? No, non sa. Baccio tu un cazzo, sen. C'è un sac? C'è un sac? E' un sac? E' un sac? E' un sac? Frango? Frango, che c'è un caz? Te chiami tu? E' un sac? E' un sac? Non ti dà? E' un sac? 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 Non so se sveglia. C'è un sac? Marco, aspettiamo! Tu non sei nervoso Ciao Dio! Ma non è bene. Ma non è bene. C'è questa roba. Ci prendiamo la macchina. Che va a fare? Avanti! Ma che state facendo? Perché ci avete chiamato? Ma io sempre ci avete chiamato. Perché? Ci avete fatto un po' alla scuola per fare la scuola? Non lo so. Ma a dire per te? Non lo so. Che dici? Che dici? Paolo. Si vede? Si vede questa. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Let's take the tripati. Non lo so. Grazie a tutti no i i se in fare no Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, sì, sì Sì